bello a tutti ragazzi e benvenuti questo è un primo video che voglio fare praticamente dei vlog tra circa un due tre settimane me lo auguro andrò praticamente in stagione e quindi inizieremo praticamente tutto quanto a quella che sarà la stagione ci saranno tipo dei spettacoli in foto in spiaggia giochi ci sarà veramente di tutto e di più e quello che mi piacerebbe proprio fare è un blog in diretta proprio sulla spiaggia e si chiamerà life is a bitch la vita è una spiaggia da lì ci saranno tutte le varie dirette e i vari video che poi pubblicherò sia sulla pagina di facebook rob ed animatori e anche sul mio profilo quindi mi raccomando allora questo sarà proprio un inizio sarà proprio il primo il primo video quindi se vedete questo cioè ve lo ricorderete per sempre 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 per sempre quindi mi raccomando questo quello iniziano a pubblicare mettete tanti like mettete tanti mi piace seguitemi mi raccomando sulla pagina di facebook e anche sul canale di youtube perché appunto dove usciranno fuori anche tutti quanti i prossimi video mi resta che dire nient'altro mi sembra che ho detto tutto non c'è più niente da dire ci vediamo al prossimo video boom baby mi sembrava Grazie a tutti